Buonasera, io sono Alessandro Zaccuri, ho l'onore e il piacere di moderare questo incontro di chiusura della quarta edizione del Festival del Classico, si è parlato di libertà, tanto in questi giorni, nell'incontro conclusivo metteremo la parola libertà in correlazione con un'altra parola che finisce sempre con l'accento sulla A, che è responsabilità, lo faremo insieme, intanto saluto Giulia Oskian che è in collegamento con noi da Yale, è una studiosa italiana che appunto insegna e fa ricerca all'università di Yale, qui con me li avete già riconosciuti, infatti quando sono salito io nessuno ha applaudito loro invece sì, ma è benissimo, questo è il compito del moderatore, scomparire ed essere trasparente come un vetro, Donatella di Cesare, Gustavo Zagrebelsky e Luciano Canfora, che non sto a presentare nessuno di loro, in particolare il professor Canfora che è diventato, mi dicono in questi giorni, una specie di rock star inseguito per autografi, per cose così, mettete da parte perché i memorabilia poi col tempo acquisiscono valore, come insegna la storia del rock. Venendo invece alla storia più legata agli avvenimenti politici, oddio non che il rock non lo sia stato, però questo sarebbe magari per un altro festival, non lo so, responsabilità e libertà sono due termini che noi ultimamente mettiamo molto in relazione e talvolta avvertiamo in conflitto, anche se torniamo alle origini di che cos'è la responsabilità, cioè l'abilità a rispondere di sé, in realtà questo è proprio, anche nel diritto romano, è una caratteristica dell'uomo libero, chi è libero può rispondere per sé, chi non è libero invece non ha questa facoltà. e questa sottolineatura, che secondo me è abbastanza importante, io ho provato quando mi hanno chiesto appunto di moderare questo incontro, ho provato ad andare un po' nella mia memoria ai momenti in cui queste cose così nuove, che ci sembrano così nuove, che stiamo vivendo in questi giorni, in questi mesi, se per caso non ci fossero stati, e di solito ci sono, anche nella storia antica dei momenti di questo tipo, e mi sono venuti in mente due passaggi delle storie di Tito Livio, distanti tra di loro, sia dal punto di vista dei volumi, sia dal punto di vista del periodo storico al quale si riferiscono, e sia più che altro del significato. Il primo che mi è venuto in mente, quando si parlava di responsabilità e libertà, è un po' facile, lo so, però comunque prima di diventare facili tutte le cose sono difficili, il famoso apologo di Menegno Agrippa. Siamo in un periodo, insomma, quinto secolo avanti Cristo, c'è molta leggenda ovviamente nel modo in cui Tito Livio descrive questa rivolta plebea, e Menegno Agrippa fa questo celebre discorso in cui dice, vabbè, insomma ci vuole l'armonia nel corpo civile, immaginate che sia il corpo umano, se tutti gli altri organi, se le mani non portassero il cibo alla bocca, se la bocca non lo masticasse, non lo ingerisse, se i denti non lo triturassero, bene, non arriverebbe mai allo stomaco, che lo stomaco erano i patrizi, erano quelli che non lavoravano, quindi se voi che siete le mani, la bocca e i denti della nazione non fate la vostra parte, in certo modo non siete responsabili del bene pubblico, tutta la respubblica si impoverisce, e quindi questo è il grande elogio dell'armonia, però in quello dell'armonia, quindi dell'armonia che deriva dall'assunzione di responsabilità di Remmoji. Nello stesso tempo però, un po' più avanti, in un periodo storicamente più accertato, tant'è vero che di questi episodi del 180 a.C. non c'è solo il racconto che ne fa Livio, ma c'è anche il documento, nel 180 a.C. per la prima volta, a me la prima volta documentata, il senato fa questo senatus consultum ultimum, prende il potere appunto e dice no, aspettate, qui c'è qualcosa che non va, una parte della libertà della respubblica deve essere limitata, duramente limitata, in quel caso il problema è di natura religiosa perché arriva al culto dei baccanali, arriva a una cosa che viene considerata nociva per la morale sostanzialmente dello Stato, eccetera. Già nell'antichità noi abbiamo questi due elementi, la possibilità che lo Stato avocchi a sé il potere di limitare la libertà e l'invito ai cittadini di esercitare una libertà armoniosa, chiamiamola responsabilità armoniosa. Perché ho ricordato questi due episodi? Perché credo che mettere, che sia un po' lo spirito del festival, mettere in prospettiva gli eventi ci aiuta anche un po' a capire meglio quello che accade adesso. Donatella di Cesare ha scritto molto su questi temi di responsabilità, anche delle zone di responsabilità che, per esempio, le rivolte che già prima dei problemi legati ai no-vax, no-pass, eccetera, si stavano manifestando in tante parti delle nostre società. A che punto siamo adesso in questa tensione tra la responsabilità, la libertà e la facoltà che lo Stato rivendica di, in alcuni momenti, limitare la libertà? Sì, allora, buonasera. Io direi anzitutto che è inevitabile oggi, parlando di libertà e di responsabilità, pur essendo il festival del classico, credo che sia inevitabile partire dal nostro contesto attuale, e quindi da quello che noi abbiamo vissuto in questi due anni di pandemia e stiamo ancora vivendo quotidianamente. E credo che una delle parole proprio più usate, forse abusate, è proprio la parola libertà, no? L'abbiamo sentita anche, la sentiamo ripetere, no? Nelle piazze, e quindi tutti noi abbiamo, quindi non soltanto i filosofi, non soltanto gli intellettuali, tutti noi abbiamo avuto modo di riflettere, no? che cos'è la libertà. Io mi rendo conto che uno dei problemi è il rapporto del potere con il singolo, però prima di affrontare questo, e vorrei magari affrontarlo in un secondo momento, o forse in un secondo giro, perché mi sembra più, come dire, sotto certi aspetti più importante e più rilevante, è pensare proprio al rapporto tra libertà e responsabilità. In che senso? Nel senso che quando, per esempio, chi è in piazza oggi, no? E lo sappiamo, inutile ci capiamo, non c'è bisogno di soffermarsi più di tanto, però chi rivendica la libertà nei confronti, per esempio, di quelle misure che vengono interpretate, percepite come coercizioni, che certamente in parte anche lo sono, però appunto quale libertà? Io credo che questa sia stata e sia la grande questione. Che cosa vuol dire libertà? Quale libertà? Io penso che la pandemia abbia veramente mandato in frantumi una idea di libertà che è un'idea più, diciamo, del pensiero tradizionale, del pensiero che io oserei dire metafisico, no? In che senso? Cioè nel senso che c'è un soggetto, che è ciascuno di noi, un soggetto che si reputa, si concepisce come soggetto autonomo e soprattutto sovrano, autonomia e sovranità vanno insieme e questo soggetto autonomo e sovrano intanto è tale perché ha una libertà. Quindi la libertà è concepita come possesso, come proprietà, è concepita direi quasi spazialmente. Vi ricordate anche quanti dibattiti abbiamo assistito dove veramente c'è l'idea che ci sia una sfera, che è la sfera, come dire, quasi privata di ciascuno di noi che ciascuno deve difendere e lì io sono il soggetto, il cittadino, la cittadina autonoma e sovrana che esercita appunto la propria sovranità. La sfera è appunto la mia sfera, io la devo difendere, la devo difendere nei confronti, prima ancora che del potere, attenzione, e questo è il discorso che mi interessa, nei confronti degli altri. Quindi è questa sfera e poi, diciamolo, aggiungiamolo fin d'ora, più io, come dire, sono potente e più la mia sfera è ampia. Però quello che mi interessa è soprattutto che la libertà venga concepita come possesso, come proprietà, proprio nel segno della proprietà privata ed è un po', e perciò si iscrive, questo concetto di libertà si iscrive, secondo me, all'interno del pensiero liberale, del pensiero del liberalismo che ha soprattutto, come dire, innalzato questo standardo della libertà e come, è nel segno dell'avere e non dell'essere. Quindi non è tanto che io sono libero, quanto che io, appunto, diciamo, intendo la mia libertà come questo possesso, questa proprietà, questa sfera privata che è intangibile, no? Cioè gli altri non possono più di tanto e infatti abbiamo sentito anche nei dibattiti, ovunque, no? C'è un limite, la mia sfera arriva fino a quel limite e dopo, appunto, ci sono gli altri. Ma è davvero così? E possiamo davvero intendere la libertà in questo modo? Anche, permettetemi di dire, molto staticamente. Ebbene, io credo che una delle grandi conquiste della filosofia, per esempio, del Novecento, ma anche della filosofia degli ultimi decenni e, diciamolo pure, anche della riflessione anche di questa pandemia, è che evidentemente questo concetto di libertà che si fonda su questo individuo, singolo, soggetto, sovrano e autonomo evidentemente va in frantumi, evidentemente va ripensata. Perché? Prima di tutto perché la libertà non è mai, non può essere mai intesa come staticamente, come possesso. La libertà è sempre qualcosa di dinamico e ha a che fare con le relazioni. Ma soprattutto perché alla base di questo concetto di libertà c'è un po' questa idea del soggetto autonomo, sovrano, che esercita la propria sovranità. E' davvero così? Noi siamo soggetti autonomi, sovrani? Ebbene, evidentemente no. Perché? Perché pensare questo significa che c'è prima la libertà e poi l'assunzione della responsabilità. Prima ci sono io come soggetto e poi io mi chiedo, con un gesto successivo, posteriore, se assumere o no la responsabilità nei confronti degli altri. Che cosa va ripensato? Va ripensato proprio anche l'idea di questo soggetto. Evidentemente io non sono né autonoma né sovrana. Perché? Perché c'è sempre la relazione con gli altri. E la relazione con gli altri, e questo secondo me è importantissimo, soprattutto nel contesto della pandemia ma non solo, la relazione con gli altri ci costituisce, non viene dopo, non è ulteriore. Costituisce ciascuno di noi al proprio interno, che non è una identità autonoma, ma è fatto di altri. Gli altri che sono per esempio coloro a cui dobbiamo la vita, da cui proveniamo, che fanno parte della nostra storia, che fanno parte, le generazioni che ci hanno preceduto, le voci che sono dentro di noi e che in qualche modo dialogano ancora con noi. E sono gli altri però anche che fanno parte della nostra vita, della quotidianità. Cioè questo mito di una identità sovrana è questo che è sbagliato, perché ha alimentato anche non solo il sovranismo politico, ma anche questo, come dire, sovranismo etico. Prima vengo io e poi mi chiedo se rispondono o no degli altri. No, gli altri mi costituiscono. C'è sempre una estranetà dentro di me, perché ci sono gli altri, già nella lingua che parliamo, no? Ma quanti altri, diciamo, esperienze e, come dire, esempi di estranetà potremmo fare? Quindi non c'è questa autonomia astratta, non c'è questa libertà astratta, non c'è... e soprattutto l'idea che va ribaltato completamente il rapporto tra libertà e responsabilità. Prima c'è la responsabilità e direi prima nel senso proprio ontologico, cioè c'è sempre l'altro che mi precede. Non vengo prima io, ci sono sempre gli altri che mi precedono, che mi precedono nella storia, che mi precedono nella lingua, no? Ci sono sempre gli altri che vengono prima e ci sono soprattutto gli altri che mi interpellano e a cui io rispondo. Rispondere vuol dire, dice questo grande filosofo, secondo me, dell'etica, che è Manuel Levinas, cosa dice? È nel momento in cui io mi giro per rispondere all'altro, in questa torsione quando rispondo all'altro che si costituisce il mio io e nella risposta all'altro e questo costituirsi dinamicamente, continuamente nella risposta all'altro ed è lì la mia libertà, che non è una libertà statica, ma è appunto... sta nell'esistenza e l'esistere è questo venire continuamente fuori per appunto da sé, questo emergere da sé per andare verso l'altro. Quello che noi vediamo oggi è un'esistenza che è un'insistenza, cioè un essere chiusi in sé, perché l'altro viene visto come una minaccia, l'altro è la minaccia intorno alla mia sfera, no, l'altro certo è anche una minaccia, però è la mia chance ed è la mia chance anche per la nostra reciproca vulnerabilità. E allora noi abbiamo, credo, forse, mi auguro, in questa grande tragedia della pandemia, forse è cominciato a capire l'importanza della responsabilità, che non è un'assunzione ulteriore dopo la libertà, ma che invece precede la libertà e che è un momento costitutivo dell'esistenza di ciascuno di noi. Magari dopo, mi fermo qui, vorrei ritornare invece sul tema del potere. Intanto grazie. Abbiamo chiamato in causa questo strano pronome io, il cui plurale si fa per moltiplicazione, non per addizione, cioè si fa riconoscendo, diffondendo, addirittura a volte anche per divisione, cioè condividendo. Io mi prendo la libertà e la responsabilità di variare un pochino i semplici accordi che avevamo presi, perché mi pare che questo ragionamento che ha fatto la professoressa Di Cesare sull'elemento, chiamando in causa lo snodo del pensiero liberale classico, chiami davvero, ci inviti a sentire la voce di Giulia Oskian, appunto, che di questa stagione del pensiero in particolare è studiosa, e di nuovo però in una prospettiva che non abbandona Tocqueville e gli altri a loro tempo, ma ci dice quanto rispetto ai temi che anche la professoressa Di Cesare sollevava ci sia un'attualità. È davvero così? Cioè, questo io sovrano è davvero un portato del liberalismo classico? Qual è il suo punto di vista? Insomma, tutto quello che lei studia, tutto quello di cui scrive e ragiona, quanto ha a che vedere con i temi che stiamo affrontando in questo momento? Grazie, buonasera a tutti. Dunque, io mi sono occupata molto di pensiero liberale, ma mi sono interrogata sulla relazione tra alcuni esponenti classicamente associati al pensiero liberale come Tocqueville e il pensiero democratico. E quindi in un certo senso ho cercato di complicare un po' la narrativa di un liberalismo appunto legato a diritti individuali che sono diritti iscritti in una legge naturale indipendenti dalla politica che devono proteggere il soggetto dalla politica. Secondo me nel contesto di questa conversazione non è tanto interessante diciamo dibattere su che cosa è il liberalismo quanto su come libertà e responsabilità possono essere intese in un senso che combina l'etica e la politica. In questo senso mi interesserebbe dialogare con la professoressa Di Cesare e con tutto il pubblico a partire da qualche riflessione su come il liberalismo nell'Ottocento si è posto a alcuni dei problemi legati alla libertà individuale e su come la nostra discussione attuale dei temi di libertà e responsabilità riprende in parte e in parte non riprende categorie liberale classiche. Dunque, secondo me è interessante pensare dato che siamo al Festival del Classico a come Benjamin Constant uno di questi liberali ottocenteschi che scrive in risposta diciamo alla rivoluzione francese una rivoluzione democratica distingue tra due tipi di libertà una libertà che chiama degli antichi che è una libertà di partecipare alle decisioni riguardo al bene pubblico e la libertà che lui chiama dei moderni che è una libertà di interagire con gli altri nella sfera della società civile quindi di interagire come attori economici interagire come stiamo facendo noi nella sfera culturale dell'opinione pubblica ma non di intervenire attivamente nella politica. Constant dice che la libertà degli antichi è assolutamente improponibile a un soggetto moderno perché richiede una costante attenzione una costante partecipazione alla sfera pubblica che in qualche modo è incompatibile in attrito con il livello avanzato di civiltà e di attività che si svolgono in una società come la società civile che non esisteva nelle polizze antiche. Questo è il contenuto di questa lezione di Constant che è stata pronunciata nel 1819 quasi 200 anni fa e in qualche modo riveduta e variata da Isaiah Berlin in un contesto diverso il contesto della guerra fredda. Ora quello che secondo me è interessante è chiedersi se ancora sussiste questa distinzione tra pubblico e privato che Constant tracciava in modo così netto. cioè se noi possiamo veramente credere che la nostra libertà sia una libertà che viene minacciata soltanto dai poteri complici. Io mi trovo negli Stati Uniti dove non c'è un obbligo vaccinale io sono obbligata a vaccinarmi dalla mia università privata. Mi chiedo quindi se in un certo senso la semplice opposizione pubblico-privato sia un'opposizione che può ancora ben descrivere l'opposizione che i liberali dell'Ottocento tenevano a sottolineare è un'opposizione tra una dimensione in cui si gestisce il potere la dimensione del pubblico si subisce il potere e una dimensione invece per il privato in cui si esercita la libertà. Ora secondo me l'aspetto problematico di in qualche modo riferirsi semplicisticamente alle teorie liberali consiste nel fatto che i poteri privati sono presi poco in considerazione e come ha preso poco in considerazione l'idea che la libertà e questa è una cosa che Constance stesso e Topil non negavano è fortemente legata a un senso di capacità di agire del soggetto. Ora quello che mi sembra essere un problema importante della contemporaneità che forse si riferisce anche a questa riduttanza di associare libertà e responsabilità è un problema secondo me che ha un risvolto politico è il problema di qual è la sfera in cui gli individui sentono di poter avere una capacità di agire se la sfera in cui gli individui sentono di poter avere una capacità di agire è molto limitata allora anche il senso di responsabilità è limitato e io vorrei porre questa questione in senso politico quali sono le condizioni del vivere comune che permettono agli individui di trovarsi a proprio agio e prendere spontaneamente una posizione etica come quella che descrive la professoressa di Cesare ora secondo i liberali classici non c'è bisogno di intervenire sulla società civile qualunque società civile permette agli individui di agire in questo modo l'unica minaccia sono poteri statali secondo me quando si parla della funzione della democrazia in Europa negli Stati Uniti al giorno d'oggi e si parla di una crisi della partecipazione una crisi del coinvolgimento nella cosa pubblica a quel punto quel dibattito diventa pertinente quando poi si tratta come è il caso della pandemia di fare un appello alla responsabilità e per tornare all'esempio di Tito Livio che lei citava all'inizio i plebei si rivoltavano perché non avevano nessuna capacità decisionale eppure erano chiamati alla leva obbligatoria i patrizi chiedevano responsabilità ma mi viene da chiedere se la domanda di responsabilità non fosse una domanda di obbedienza e la cosa molto interessante secondo me a cui aspirano le democrazie liberali che è un progetto bellissimo è quello di legare l'obbedienza alla responsabilità l'idea dell'autogoverno e secondo me i momenti in cui c'è una tensione e si vede una tensione un attrito un egoismo un particolare ritmo sono momenti che invitano anche a riflettere sulle occasioni e le opportunità di partecipazione e in questo senso secondo me pensare e porsi la domanda in questi termini significa davvero andare oltre il liberalismo classico cioè porsi il problema della responsabilità non per invitare altri a prendere responsabilità ma pensare quale è la distribuzione tra potere e responsabilità in una democrazia questo è interessante perché chiudo con un ultimo riferimento ai liberali classici la grande domanda nell'ottocento francese e europeo dei liberali era chi ha il diritto di voto i liberali classici pensavano che la politica fosse qualcosa di complicato e che per poter prendere parte attiva a un governo rappresentativo fosse necessario dimostrare comprovate capacità queste capacità avevano a che vedere con un livello di istituzione ma in realtà venivano misurate anche per ragioni pragmatiche con un livello di reddito tanto che nella monarchia di luglio in Francia negli anni 30 dell'ottocento l'1% della popolazione maschile francese aveva diritto di voto oggi negli Stati Uniti si dibatte molto su quale siano le qualifiche per la partecipazione politica credo che sia un dibattito più largo che si è avuto anche in Italia anche in Europa soprattutto poi dopo il 2016 Brexit c'è un libro di Jason Brennan tradotto dal murino che si chiama contro la democrazia che sostiene che bisogna fare dei test dei test per partecipare dei test di educazione di informazione bisogna restringere il suffragio in qualche modo perché appunto la libertà genera il caos e la mancanza di responsabilità ora la domanda che io voglio porre è questa soluzione appunto molto in linea a quella di alcuni liberali classici è compatibile con un appello alla responsabilità escludendo si può invitare ad essere responsabili oppure la responsabilità deriva dall'inclusione e precisamente come diceva la professoressa di Cesare dalla capacità di riconoscere l'interdipendenza quindi fermo qui allora grazie io su questa questione di quali sono le condizioni per esercitare liberamente la responsabilità mettiamola così sentirei però il professor Zagrebelsky adesso ha un colpo di scena l'ho presa l'ho presa non se l'aspettava no non me l'aspettavo dal punto di vista dell'ordine degli interventi ma non me l'aspettavo nemmeno dal punto di vista della domanda che mi ha fatto insomma noi veniamo dall'università quando facciamo una domanda all'esame e siamo contenti se lo studente dice professore mi lasci mezz'oretta per rifletterci quindi ne parliamo domani ne parliamo domani ma comunque arriviamo a questo a questo tema partendo però da ciò che mi veniva in mente da proporre ascoltando gli interventi precedenti e poi ci arriviamo non sfuggirò alla domanda allora io la tengo d'occhio dire qualcosa di molto semplice stiamo ragionando di libertà versus obbligatorietà poi la parola responsabilità si pone forse a un livello superiore libertà obbligatorietà diritti e doveri autonomia e eteronomia siamo pienamente nell'ambito di quelle che si chiamano le dicotomie dicotomia vuol dire o di qua o di là ciò che sta da una parte non sta dall'altra parte e se sta dall'altra parte non sta nella prima parte cioè sono due visioni della realtà del mondo dell'esperienza che sono di per sé totalizzanti ed escludenti se uno è per la libertà non può essere per la obbligatorietà e viceversa questo dal punto di vista teorico dal punto di vista del se volete della classificazione delle idee dei punti di vista e dietro queste dicotomie c'è la grande questione di cui si occupano sempre diciamo io a differenza di coloro che hanno preso la parola e la prenderanno sono un povero giurista no cioè manteniamo ferme le stratificazioni culturali e sociali sì sei d'accordo è certa infatti sapevo che del professor Canforo col quale peraltro io ho perfino fatto un dibattito che è stato pubblicato dall'editorio la terza ecco quindi voglio dire lui mantiene le distanze però ogni tanto si degna diciamo di scendere ecco così sei molto liberale sei molto aperto all'esperienza però dicevo dietro queste questioni che sono diciamo segnate dal radicalismo concettuale c'è la grande domanda del che cosa viene prima viene prima l'individuo la sovranità dell'individuo o viene prima l'insieme viene prima la parte o viene prima il tutto e guardate che non si può sfuggire da questa da questa questione dal punto di vista teorico si faceva riferimento prima all'apologo di Menegno Agrippa l'apologo di Menegno Agrippa è un luogo comune di tutto il pensiero totalitario cioè il pensiero che mette all'inizio il totus di cui le parti sono conseguenze ne dipendono e naturalmente il tutto il corpo umano in quel caso il San Paolo il corpo mistico che usa questa immagine il tutto ha delle pretese totalizzanti sui singoli quando è nell'interesse del tutto i fascismi di tutti i tempi anche se non si chiamavano così si basavano su questa premessa viene prima dal punto di vista della dignità dell'importanza dell'essenza della vita comune viene prima il tutto e quindi il tutto ha tutti i diritti di chiedere ai singoli quello che ritiene necessario per la sua esistenza questo è il pensiero totalitario olista direbbe il professor Canfora ogni tanto usa anche lui questa parola e viceversa coloro che mettono prima di tutto il singolo pensano che il tutto dipende dal libero gioco dell'autonomia singola singolare ecco noi viviamo in un'epoca finale secondo me che è nata con la fine dei totalitarismi del secolo scorso in cui si è privilegiato l'aspetto dei diritti individuali se noi leggiamo la costituzione si si parla di solidarietà ma è anche di qualche dovere di solidarietà come pagare le tasse lo dico con una certa prudenza non bisogna mai esagerare in questi discorsi ecco ma sostanzialmente l'impianto costituzionale si fonda sui singoli e sui loro diritti nel senso che vengono prima i singoli poi naturalmente si chiede ai singoli anche una consapevolezza dell'essere parte e quindi la solidarietà ma perché veniamo da quell'epoca perché prima c'era invece il totalitarismo e quindi era un'epoca solo di doveri i singoli caricati di doveri verso il tutto diciamo la nostra costituzione secondo me porta quel segno e adesso ci accorgiamo invece che bisogna riequilibrare ecco di fronte alle vicende della pandemia eccetera eccetera ma questo intanto usiamo queste parole che non sappiamo bene che cosa significhino in in generale libertà libertà e c'è un famoso capitolo in in Montesquieu dove si dice ma la libertà può essere qualunque cosa la libertà di fare quel che si vuole la libertà di essere governati si scriveva in quell'epoca essere governati da governanti che vengono dalla nostra terra non dagli stranieri la libertà dagli stranieri la libertà ma poi fa un'elencazione di uso della parola della libertà e finisce con la libertà di portare la barba non è una sciocchezza era la libertà rivendicata dai moscoviti che non volevano tagliarsi la barba cosa che invece era richiesta da Pietro il Grande cosa c'è dietro sembra una sciocchezza questa no andiamo a finire sulle barbe sembra una sciocchezza però dietro a quella questione c'era una questione di potere cioè Pietro il Grande stava combattendo una battaglia contro gli ortodossi più chiusi i vecchi credenti i vecchi credenti che avevano sede a Mosca i moscoviti appunto Pietro Grande invece stava a Pietroburgo San Pietroburgo eccetera e aveva fondato la sua chiesa o meglio un aspetto dell'ortodossia che faceva capo a San Pietroburgo al Santo Sinodo organo da lui creato come sua longa manus insomma quella l'epoca in cui stato e chiesa erano strettamente uniti e faceva la guerra viceversa al patriarcato di Mosca e la barba era un simbolo della dislocazione del potere libertà e potere teniamo presente questa congiunzione però adesso cioè la libertà non vuol dire affatto assenza di potere significa diciamo strutturazione di rapporti di potere proprio perché come dicevi tu il singolo non vive nell'isola deserta se vivessimo ciascuno di noi nell'isola deserta non staremmo qui non staremmo a discutere di queste questioni ogni tanto ci viene la tentazione no? o sì o no io ogni tanto secondo me dopo il lockdown è passata però no ma ogni tanto viene di come sarebbe bello non avere rapporti con i miei simili poi sono sicuro che non che non durerebbe a lungo ecco ma dicevo torniamo alla alla questione originale questo rapporto il tutto e le parti guardate che teoricamente secondo me questa questione non è risolvibile è appunto una dicotomia ma noi non viviamo nelle teorie viviamo nella vita pratica e entrambe le posizioni cioè la dignità del singolo e l'esigenza del tutto sono punti di vista che dobbiamo tenere presente insieme contemporaneamente allora ragionare per categorie dicotomiche come fanno quelli che scendono in piazza e urlano libertà intendendo quello che serve a loro cioè faccio quello che voglio il primo significato di di Montesquieu e ragionare così non ci porta alla convivenza la convivenza significa la scelta e la decisione delle misure pratiche pratiche non teoretiche pratiche che tengano conto sia del valore dell'individuo della persona se vogliamo sia dell'esigenza del tutto dove per tutto si intende l'insieme della convivenza ecco allora questa discussione secondo me se si sposta dai grandi principi astratti in concreto si risolve in queste domande quali sono le limitazioni alla autonomia assoluta che sono utili per la convivenza e quindi sono accettabili e quali sono le limitazioni che viceversa esprimono una prepotenza e magari in vista di fini che non vengono dichiarati ma che sono quelli che invece alimentano il complottismo le grandi imprese produttrici di medicinali o anche la prova generale di quello che potrebbe accaderci cioè un regime totalitario ecco e queste sono sullo sfondo ma noi dovremmo ragionare ragionevolmente e razionalmente tenendo presente questi due lati del problema l'esigenza dei singoli che non possiamo dimenticare quindi dobbiamo accettare la discussione non possiamo ostracizzare e viceversa l'esigenza della tenuta di una convivenza civile tra di noi è un problema pratico e vi dico stamattina ho parlato con un giornalista famoso di cui non faccio il nome per non fare per carità che ha deciso che nelle sue trasmissioni non darà spazio ai Novax non darà spazio fuori allora questa misura tenendo conto che questo giornalista lavora non nel servizio pubblico ma lavora in una televisione privata una decisione di questo genere è accettabile oppure no ecco questa è una questione concreta di convivenza delle due prospettive di cui dicevo prima forse ne possiamo parlare applausi il giornalista lo ha reso veramente irriconoscibile sono qua che mi stanno scervellando tra l'altro la barba è una questione di libertà molto interessante perché per esempio il concilio di Trento li proibisce al clero secolare di portare la barba perché se no si confondono con i famosi bravi che invece erano tutti impennacchiati baffuti eccetera quindi come capite è un argomento su cui ho una limitata ma radicata competenza professor Canfora l'ho lasciata alla fine ma appunto lei mi ha detto quando abbiamo organizzato l'incontro mi ha detto lei prenda il potere e io erano anni che aspettavo questo momento spartachista quindi l'ho fatto ho preso il potere e ho lasciato in fondo il professor Canfora va bene quanto è responsabile della libertà degli antichi e viceversa oserei dire che gli antichi come tali non esistono esistono una serie differenziata di situazioni per esempio noi conosciamo alcune realtà le spesso generalizziamo ma per mancanza di informazioni più che altro e anche per una tendenza oserei dire quasi manualistica a fornire un racconto compiuto organico che cela alcune lacune inevitabili più si va indietro nel tempo più questo è normale si potrebbe dire ma sarà molto schematico per mille motivi pratici come direbbe Gustavo Sacrebeschi pratici no ma è un pieno consenso con questa tua impostazione un giovane studioso polacco si chiamava Wirtzubski nel 1950 pubblicò un libro che fu tradotto subito in italiano un bel libro con un appendice di Arnaldo Momigliano che riguardava un problema particolare questo libro si intitolava Libertas è storia di un'idea politica non vi racconterò il contenuto dell'intero libro ma il focus diciamo così della trattazione giustamente si raccoglieva intorno a questa polarità l'eleuteria atenese perché è il mondo che meglio conosciamo il quinto avanti quarto già è un po' diverso l'eleuteria atenese è un massimo di diritti la Libertas romana è un minimo cosa voleva dire detto così può sembrare un po' schematico tanto più che eleuteria poi è una come ha spiegato benissimo Santo Mazzarino un libro di tanti anni fa un valore aristocratico eleuteria è una parola che si fa strada come valore positivo nelle aristocrazie contro il tiranno che peraltro è un concetto non così abietto come noi siamo abituati ad usarlo ma è per lo più il grande mediatore Turanos e Aesum Netes sono usati quasi come sinonimi e il tiranno in alcune realtà nelle isole nel lesbo soprattutto che conosciamo grazie ad Alceo e ad altri poeti politici media tra fazioni contrapposte nella realtà tenese è completamente diverso è in realtà il leader popolare i non possidenti carbonai dell'attica eccetera appoggiano pisistrato e le famiglie elevate socialmente gli alcmeoni eccetera che alla fine poi chiedono aiuto a Sparta per liberarsi i tiranni sono propugnatori dell'eleuteria quindi eleuteria nasce così però poi finisce con l'identificarsi col concetto addirittura di democratia quindi queste parole hanno una storia e camminando cambiano Turanos diventa una parolaccia eccetera dicevo finisce col coincidere perché curiosamente nella autorappresentazione della democrazia ateniese l'eleuteria è l'eleuteria del demo un personaggio che conosciamo per caso che guidava la parte democratica non ad Atene ma a Siracusa grande capitale occidentale della Grecità in un discorso che Tucidi degli attribuisce non so poi quanto sia corrispondente a quello che questo tale si chiamava Ristagora intendeva dire il demo è tutto a proposito del famosolismo mentre non è così perché il demo in realtà è una parte talvolta numericamente minoritaria però assume su di sé il compito di costituire e rappresentare il tutto l'eleuteria e la democratia a quel punto diventano coincidenti ma per esempio nel pensiero di Pericle e Tucidideo sono agli antipodi il nostro sistema mancanza di meglio viene chiamato democratia ma noi garantiamo l'eleuteria individuale eccetera mondo romano completamente a parte che non esiste in latino la parola democrazia non c'è per esprimere questo concetto malvisto si dice eccesso di libertà nimia libertas per esempio ma libertas è un valore che nel mondo diciamo politico soprattutto politico romano è appannaggio delle aristocrazie è appannaggio della nobilitas però questo può sembrare un po' troppo sommario e schematico nobilitas poi è una parola che noi usiamo forse non sempre rendendoci conto di quello che vuol dire si entra nella nobilitas non è per nascita naturalmente uno può nascere già nobilis perché cicerone non è nobilis è homo nobus però consegue il consolato raggiunge il vertice del cursus honorum ed è un potere enorme i consoli come dice Livio quando racconta la nascita della repubblica sono monarchi per un anno solo e per fortuna sono due quindi si possono controllare vicende ma la densità del potere del console è pari con queste limitazioni a quelle del sovrano che è stato cacciato in maniera drammatica il figlio suo però è nobilis perché il padre è stato console quindi si entra nella nobilitas e la nobilitas è patrizio plebea perché c'è una nobilitas plebea che ha avuto accesso a questo status attraverso il canale che ha prima descritto tutto questo è poi calato nella prassi estremamente pugnace combattivo anche attraversato da vene di corruzione spaventosa la corruzione elettorale la compravendita del voto la predeterminazione del risultato il trucco dei sistemi elettorali il sistema elettorale romano premia le classi alte cavalieri e senatori col sistema delle centurie per cui si vota secondo lo schema delle centurie cioè la struttura dell'esercito praticamente ma questo ripeto lo possiamo lasciare da parte la riflessione etico-politica romana su libertas si nutre di un estremismo dottrinario impressionante un uomo come Cicerone che filosoficamente naviga tra più sponde diciamo così è autore anche di un libro piccolo libro paradoxa stoicorum i paradossi degli storici uno di questi paradossi è soltanto il saggio è uomo libero cioè esiste solo un libero è il saggio il quale può anche essere in catene ma è libero perfettamente libero questa formulazione estremistica che può sembrarci appunto come sembra Cicerone un paradosso per un verso va storicizzata cioè le persone che in concreto possono rivestire questo ruolo non sono tantissime sono si collocano in un certo punto della società c'è però un caso concreto potremmo dire che in certo senso è diventato emblematico nella cultura romana il suicida di Utica Catone perché lo chiamo in causa forse sto esagerando con i tempi ma cercherò di essere brevissimo perché quest'uomo perché si uccide perché è convinto che dopo la vittoria militare faticosissima di Cesare a Tapso in Africa nell'anno 46 non può più essere libero quindi in certo senso smentisce la teoria che il saggio è libero sempre e dovunque e quindi si uccide perché quest'uomo diventa il guardiano del purgatorio nella commedia dantesca in una scena quasi comica potremmo dire come viene anzi diluita da Dante in una serie di movimenti al centro c'è il severissimo Catone che viene presentato come un vegliardo ma egli si è suicidato abbastanza giovane quindi non riuscì ad essere mai vegliardo in vita sua blocca l'accesso perché vede un essere vivente e dice che sono state infrante le leggi chi viene dall'inferno non può neanche entrare qui dentro Virgilio lo ferma e gli spiega che da molto in alto è stato deciso che quest'uomo possa accedere l'altro resiste Virgilio fa l'emozione degli affetti gli ricorda Marzia tua che ancora laggiù ti pensa nostalgicamente lui risponde Marzia non può avere influenza su di me non mi può scuotere ormai insomma è un guardiano severissimo e Virgilio spiega a Catone frase celeberrima e abusata e spesso citata con cambio del verbo dalla terza alla prima singolare libertà va cercando e poi prosegue dicendo che si cara come sai tu che ti sei ucciso per essa quindi da una parte parla di una libertà e diremo subito quale libertà e dall'altra però fa riferimento alla libertà politica per la quale Catone si è suicidato è lo stesso autore che nel sesto canto del paradiso colloca giustiniano personaggio tutt'altro che raccomandabile sul piano dei comportamenti il quale racconta il cammino dell'aquila romana cioè dell'impero cioè del punto supremo di organizzazione politica nella visione dantesca partendo da Cesare cioè da colui che ha creato le premesse del volo dell'aquila imperiale singolare situazione per cui Catone è il simbolo della libertà che va ricercata e perseguita e Cesare è colui contro il quale quell'uomo si è suicidato ma la chiave di tutto questo e questo forse non è inutile dirlo abbiamo parlato di tante cose giustissime connesse alla vita nostra concreta ai problemi le antinomie potremmo dire la soluzione che emerge da questo straordinario viaggio che è quello dantesco è nel punto in cui Virgilio si congeda da Dante con dolore perché lui non può entrare nel paradiso terrestre quindi si separa da lui e gli dice non aspettar mio dir più né mio cenno libero dritto e sano è tuo arbitrio e fallo fora non fare a suo senso perché io te sovra te corono e mitrio un canto ventisettesimo del purgatorio queste parole sono state molto commentate soprattutto per corono e mitrio perché corono allude al potere politico e mitrio è quello ecclesiastico lasciando però in ombra o meno all'attenzione te sovra te cioè la libertà che Dante sta finalmente raggiungendo e la consapevolezza potremmo dire modernamente della necessità un grandissimo come Johann Gustav Reusen autore dell'Historique oltre che di tante cose importantissime in un paragrafo di questa sua opera scrive citando il te sovra te corono e mitrio la forza vitale del movimento storico è la libertà l'alternativa tra necessità e libertà è falsa suprema libertà è vivere per il bene supremo e per il fine dei fini Johann Gustav Reusen che era stato un allievo diretto di Hegel quando era un giovanotto e che ha messo quelle parole dantesche del canto ventisettesimo del purgatorio al centro della historic perché mette la libertà intesa in questo modo al centro del movimento storico allora forse tra tanti discorsi che noi facciamo giustissimi non dobbiamo perdere di vista questa idea di libertà come consapevolezza che il soggetto stesso per primo consegue prima ancora che gli venga spiegato dall'esterno o che venga limitato da un potere politico esterno e quindi la libertà è il protagonista non solo della storia cosa che ci trascende ma di quel poema del quale quest'anno si è parlato tantissimo forse in maniera divagante grazie tra l'altro a ribadire l'importanza di quell'episodio del ventisettesimo c'è il fatto che c'è il fatto che Virgilio scompare esattamente come Cristo scompare al cospetto dei discepoli di Emmaus quindi è una cesura molto forte quella che Dante introduce allora vedo che si aprono le porte quindi questo è sempre un segno di libertà però credo che forse guardo qualche minuto ancora per un secondo giro rapido ce l'abbiamo anche perché ci sono diverse cose che sono rimaste in sospeso certo non le risolveremo questa sera questo è chiaro il tempo è una questione pratica e metafisica assieme quindi ci mette un po' tutti d'accordo però usiamoli bene questi 10 minuti questo quarto d'ora finale insomma che ci prendiamo la professoressa di Cesare ci aveva promesso di tornare su un tema sul terzo incomodo diciamo tra libertà e responsabilità che è emerso più volte durante il dibattito che è il potere appunto quindi ti ripeto brevemente perché abbiamo poco tempo a disposizione ma sì poi naturalmente i temi che sono stati toccati sono tantissimi quindi sarebbe interessante anche riprendere tante diciamo suggestioni e anche questioni forse soltanto diciamo da filosofa io ho già fatto dei dibattiti col professor Zagrebetsky io penso che sia sempre così proficuo anche le differenti prospettive e certo io da filosofa penso che alcune questioni però non siano soltanto pratiche ma che invece la questione come dire teorica del concetto conta cioè conta il modo in cui noi intendiamo la comunità conta il modo in cui noi intendiamo l'individuo e questo ha naturalmente ricadute poi pratiche però concentrandomi invece sulla domanda del potere io credo che e a proposito di quello che dicevi del giornalista con cui con cui hai fatto l'intervista oggi ah la chiacchierata io ho pubblicato oggi proprio è uscito mio editoriale sulla stampa dove spingendo i titoli sono sempre facoltà del giornale spingendo un po' hanno messo come titolo che mi ha un po' con più o meno con i si deve dialogare o si può dialogare con i Novax in realtà la mia era una riflessione sulla questione del complottismo però perché dico questo perché il tema del complottismo è il tema del potere e secondo me noi oggi abbiamo il grande problema che la coercizione non viene vista semplicemente come coercizione di un potere che ha un nome un volto un indirizzo cioè non c'è come dire un sovrano come c'era un monarca a cui fa riferimento e il grande problema anche molto inquietante oggi è che non basta neanche più la riflessione per esempio di Foucault che parlava di microfisica del potere cioè appunto di un potere diffuso che si esercita diffusamente ma per citare invece un altro teorico un po' dimenticato degli anni 80 che viene non per caso riscoperto ora che Claude Lefort che è anche un teorico della democrazia cosa dice? Dice già negli anni 80 intuisce questo cioè che il problema della democrazia già dagli antichi quindi tradizionalmente ma soprattutto adesso che si staglia poi naturalmente a partire dalla rivoluzione francese è il problema del vuoto del vuoto che cosa vuol dire per esempio che il popolo è sovrano il popolo è sovrano come lo era il monarca evidentemente no questo è un grande problema della democrazia non lo possiamo affrontare qui quello che mi interessa qual è che cos'è che il grande problema anche della politica oggi e che spiega il fenomeno del complottismo è che noi abbiamo percepiamo un potere che viene esercitato e che viene esercitato anche con violenza ma il punto è che non sappiamo dove sia è un potere come dire mascherato è un potere senza volto è un potere senza nome deve far riflettere al di là dei dati del census che possono essere più o meno affidabile o no che si calcola che almeno il 40% della popolazione delle democrazie occidentali dei cittadini delle democrazie occidentali è convinta che i propri governanti siano a loro volta manovrati cioè che ci siano delle forze occulte dei poteri forti ma il problema e quindi questo già inficia la democrazia ovviamente e poi quali sono chi sono chi governa il mondo cioè questa idea per esempio complottistica del deep state dello stato profondo per cui si diciamo avvicendano vari governi ma poi il potere rimane sempre lì l'idea del nuovo ordine mondiale eccetera eccetera è proprio questo quindi il problema è oggi il nostro rapporto con questo potere che appunto in fondo è un vuoto perché è senza nome senza volto senza indirizzo dove a chi ci rivolgiamo e questo riguarda anche e mi piacerebbe ma non abbiamo tempo rispondere anche le domande interessanti che faceva Giulia Oschi e questo riguarda ovviamente anche la nostra partecipazione grazie volevo sentire appunto Giulia Oschi anche perché per esempio questo tema del complotto non è un tema del tutto ignoto anche il contesto in cui nascono nasce la teoria delle dottrine insomma liberali classiche insomma nella rivoluzione francese per esempio la libellistica complottista lo ha dimostrato Robert D'Artone in libri famosi è molto importante nell'indirizzare l'asce da lì chiaro nell'indirizzare l'opinione pubblica certo la situazione attuale è una situazione di diffusione di informazioni e disinformazioni incontrollate che è uno scenario molto lontano da quello che potevano immaginare i liberali classici prego grazie sì questa questione secondo me è fondamentale e molto interessante diciamo che l'atus democratico richiede una forma di dubbio e di sospetto tenuti ovviamente sotto controllo si tratta di una democrazia rappresentativa di mantenersi vigili infatti la vigilanza è sempre stata lodata come una virtù democratica per poter valutare l'operato dei governanti che sono al potere in quanto ci rappresentano se uno smette di farlo il governo diventa meno rappresentativo e si lamenta l'apatia politica come si faceva fino a poco tempo fa essenzialmente la cosa importante appunto è che c'è una differenza tra questa vigilanza e poi il complotto e forse un modo interessante di porre la questione della differenza potrebbe essere considerare come appunto la lontananza dai processi decisionali per mettere l'immaginazione di fiorire in queste fantasiose fantasie complottiste e quindi tornando ai liberali un'interessante proposta che faceva Tocqueville negli anni 30 dell'Ottocento era quella che in un certo senso era consonante con la teoria contemporanea della democrazia partecipativa cioè se la democrazia è un governo in cui il potere non deve essere misterioso e questo secondo me è un prerequisito dell'idea della democrazia come autogoverno la trasparenza ma soprattutto l'idea che non ci sia un mistero rispetto al potere diversamente da altre forme di governo basate su un'altra forma di autorità della tradizione del prestigio del grande potere di investitura divina del governante allora che cosa può dissipare questo mistero del potere quindi rendere gli individui più consapevoli di come avvengono i processi umani di negoziazione di gestione del potere dunque secondo Tocqueville per esempio la presa di potere degli individui nei processi decisionali locali aiuta gli individui a farli medializzarsi con come si gestisce il potere e quindi da lì tutta una tradizione democratico-liberale democratico-partecipativa che invita a far rifiorire processi decisionali a vari livelli perché appunto secondo questa tradizione l'aspetto positivo la conseguenza positiva della partecipazione individuale alle istituzioni non è soltanto che gli individui esprimono la loro volontà su questioni talvolta che Tocqueville descrive come molto pratiche ma anche nel senso di molto pratiche e minute per esempio dove creare un parco urbano in un piccolo comune ma anche il fatto che discutendo su dove creare un parco urbano gli individui imparano a discutere gli individui imparano a prendere decisioni in modo collettivo e capiscono quali sono le sfide e gli ostacoli che questo modo di prendere decisioni comporta ora ci sono naturalmente molti problemi il problema della motivazione il problema del fatto che i processi decisiorali sono complessi però secondo me una domanda che può diciamo creare un ponte tra teorie e prassi è se la partecipazione comporta un aspetto di educazione alla cittadinanza e come questo può essere messo in pratica Tocqueville aveva una serie di proposte per esempio le giurie popolari nel decidere i processi diceva le decisioni saranno sicuramente meno accurate che quelle prese soltanto da un giudice ma i cittadini impareranno la responsabilità perché decideranno le dettature grazie imparare a decidere la massima libertà c'è tutta una corrente che dallo stoicismo entra nel cristianesimo e dialoga con il cristianesimo massima libertà è scegliere il bene massima responsabilità è scegliere il bene non è che concluderemo su questi temi però professor visto che prima le ho fatto la domanda trabocchetto adesso le faccio la domanda libera cioè non potendo fare conclusioni su questo tema però un pensiero finale suo e del professor Canfora con cui congedarci pensiero finale non è uno scherzo faccio la domanda non va bene pensiero finale non va bene ma incontentabile mi permettete soltanto di salutare calorosissimamente Giulia che ci guarda dagli Stati Uniti forse si ricorda di una discussione della sua tesi di dottorato alla normale di Pisa tanti anni fa mi fa molto piacere rivederla lì mi ricordo bene volevo salutarla anch'io poi mi vergognavo a farlo scusate ma queste sono cose private non mettiamo non mettiamo in mostra i nostri rapporti ecco teniamoli coperti intanto io vorrei chiarire una cosa quando ho detto che il problema naturalmente da un punto di vista dello studio delle categorie politiche tutto è lecito benissimo ma noi abbiamo oggi di fronte a noi il problema pratico della convivenza di queste due prospettive che sono tutte e due prospettive degne non possono essere abbandonate non si può scegliere l'individualismo senza confini che poi si traduce come sappiamo in potere dei potenti senza confini ma non possiamo neanche abbandonare l'idea che noi siamo una società e quindi essendo una società abbiamo dei e questa è una diciamo non è una una limitazione qualcosa della quale dovremmo pensare di scrollarci di dosso vivere in società è pur sempre un grande bene della nostra esistenza anche se dicevo prima ogni tanto la società ci sta un po' no? e ci verrebbe voglia di quindi qui il problema non è poi la mediazione la mediazione senza 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 valore noi qui siamo a Torino una città che ha goduto per decenni dell'insegnamento del professor Norberto Bobbio allora il pensiero di Bobbio era fondamentalmente costruito sulle dicotomie o sulle contraddizioni concettuali però se c'era un uomo del dialogo era proprio lui nella pratica queste visioni devono trovare il modo di comunicare le une con le altre in modo da poter salvare il meglio non il peggio non qualunque cosa ma il meglio della tradizione liberale o individuale non diciamo individualista perché tutte le parole inismo la tradizione dell'individuo come valore che tra l'altro ci riflettiamo professor Canfora ma è vero o non è vero che la storia nei due millenni che abbiamo alle spalle è una storia della diciamo dell'affermazione della libertà Benedetto Croce perché forse di più ah benissimo no mi dice avevo paura che tu dicessi molto di meno allora mi avessi detto se è molto di più ancora meglio conosciamo la storia di questa sì sì no vabbè certo ma io volevo essere prudente non volevo invadere il campo di tuoi studi il quinto secolo avanti Cristo te lo lasciamo tutta va bene grazie scusa non è questo il punto cioè la modernità che passa attraverso queste epoche benedette o maledette a seconda del punto di vista innanzitutto l'umanesimo l'umanesimo il rinascimento che noi consideriamo un grande momento di liberazione e poi la rivoluzione francese tutte queste cose sono cosa buona o cosa cattiva non lo so dipende dalle concezioni della storia per alcuni la rivoluzione francese è stata il punto più basso della storia dell'umanità per l'appunto perché ha distrutto ogni struttura relazionale tradizionale eccetera e l'essere umano si è costruito questa immagine autoimmagine della sovranità individuale che sarebbe l'inizio di tutte le nostre sciagure perché dicevo questo perché queste categorie contengono del buono e contengono del meno buono e su questo c'è tutto l'individuo singolo e su questo sarebbe buona cosa che si riuscisse a stabilire un confronto ma il confronto è qualcosa di pratico questo voglio dire però salvando il fatto che entrambe le categorie hanno la loro giustissima dignità e devono essere prese in considerazione la mia domanda però è questa il confronto ma il dialogo direbbe con tutti questa è la domanda che che vi pongo dialogo implica tolleranza quindi non solo il riconoscimento che ci possono essere delle ragioni diverse dalle nostre ma anche l'idea che dal confronto con le posizioni altrui possano nascere degli argomenti che ci migliorano che ci migliorano allora fatta questa premessa diciamo la tolleranza il concetto su cui potremmo davvero noi possiamo oggi dialogare con qualunque posizione no noi possiamo dialogare con i negazionisti scusate non perché dietro la questione del negazionismo ci sia una grande tragedia che ancora oggi sconvolge le nostre coscienze ma per una ragione se volete molto più terra terra cioè i negazionisti negano l'evidenza allora negare l'evidenza non consente di introdurre un discorso basato sulle opinioni chi dice scendendo in piazza in questi giorni che il covid non esiste non esiste beh nega l'evidenza che noi abbiamo toccato con mano immagino avendo parenti e amici allora con costoro è possibile stabilire un dialogo secondo me no ci deve essere un terreno sul quale non si discute che sono i meri fatti meri fatti poi naturalmente sappiamo bene che anche la scienza che si occupa di fatti non è univoca e per fortuna non è univoca c'è dibattito anche nel campo della scienza però ci sono alcuni minimi alcune condizioni minime senza le quali il dialogo non è possibile e c'è come unica possibilità lo scontro o se volete la sopraffazione chi vince cosa che vediamo ogni tanto nelle trasmissioni televisive certe volte addirittura provocato allora noi siamo tutti tolleranti qui no però però ecco grazie la professoressa diceva ma un minuto solo dopo un minuto si spegne il microfono una cosa che il professor Zagrebessky se lo ricorderà sicuramente io faccio parte di coloro che hanno come dire parlato veramente tra i primissimi del negazionismo del fenomeno del negazionismo ho scritto un libro che anzi nel prossimo gennaio ci sarà una nuova edizione sul negazionismo della Shoah e mi sono battuta perché venisse riconosciuto il reato quindi rispetto a coloro che come dire mettono in discussione quelli che sono i presupposti della nostra democrazia assolutamente la questione del negazionismo del covid secondo me è diversa e quindi vanno fatte delle distinzioni quindi a mio avviso lo dico perché è una questione molto importante secondo me recuperare i 3-4 milioni di italiani che in questo momento non si vaccinano eccetera eccetera secondo me è invece un compito importante che dovrebbero anche porsi in media dovremmo porci tutti quanti grazie gran finale del professor Canfora ha aperto il festival ha intervenuto tante volte è chiaro che l'ultima provvisoria parola perché ognuno dei termini che abbiamo evocato questa sera si porta dietro un paio di biblioteche insomma di riflessioni però una parola conclusiva la chiediamo a lei questa sera ma non verrà certamente perché non può invece è bello che siano emersi in forma problematica quesiti aporetici che sul piano della discussione astratta nobilissima sono una delizia del pensiero che poi calati nella vita concreta creano disagi contrasti e così via quindi non mi avventurerò nel fare questa parte un po' come dire di saggio che finalmente dice la parola che tutti aspettavamo che non esiste no sono un po' preoccupato per la deriva giacobina di Gustavo quello si quello mi preoccupa però può essere che no scherzo consentimi questo breve ma se tu mi dici che il covid non c'è perché andreste che io discutessi con te ma io ho in mente quella scena appunto che racconta Plutarco di vatti ma ascolta detto da un signore il quale che era Pericle viene aggredito da uno che non lo sopportava e con costui lui cerca di ragionare e mentre quello continua a picchiare dice batti però ascolta cerco di finire poi mi arrendo alla tua bontà sembra banale a dirsi ma si può utilmente discutere soltanto con chi è molto lontano da ciò che uno altrimenti è una discussione un po' accademica simpatica eccetera quindi su questo terreno penso che sia giusto rassegnarsi all'importanza di dialogare comunque perché alla fine gli argomenti tutto tu puoi la formulerei così classica si può essere e si deve essere tolleranti nei confronti degli intolleranti sì tu sei un grande lettore di classici e quindi posso permettermi di fare un riferimento che può sembrare un po' come dire sbarazzino un denigratore sul piano concettuale della tolleranza forse ti potrebbe stupire è Benedetto Croce nella storia come pensiero e come azione prende in giro Erasmo dicendo che predicava la tolleranza tra Lutero e il Papa e quando finalmente gli dettero ragione con l'illuminismo erano alle porte altre intolleranze fortissime e quindi il riconoscimento della saggezza di Erasmo era perfettamente inutile dice Benedetto Croce il quale in un'intervista molto nota un giornale nazionale ebbe a dire i tolleranti erano dei vili ci si ammazza per un'idea ecco ora ti sto parlando di un pontefice massimo del liberalismo però siccome tu mi hai chiesto si può essere tollerante con gli intolleranti si deve essere tali oppure si imbocca una strada pericolosa avevo chiesto una conclusione stiamo aprendo un'altra cosa è partito il festival dell'anno prossimo quindi dobbiamo provvederemo quanto prima questo è chiaro piuttosto dobbiamo arrivare no piuttosto mi pare abbiamo perso per istrada un problema molto serio che ha incrociato l'altro dal quale mi terrei molto lontano perché si è detto tutto il dicibile e cioè questa idea un po' ironica verso il complotto ora un grande storico inglese si chiama Ronald Syme ebbe a scrivere raccontando vicende dell'età augustea la storia vera è quella segreta ma al di là di questa formulazione generale molto vera e poi chiudo davvero con questo riferimento empirico e parziale studiosi della rivoluzione francese ricordano certamente un personaggio che ha lasciato poi una lunga prosa autobiografica barrer era chiamato l'anacreon della guillotine perché mandava la guillotine alle persone con una levitas devo dire quasi angosciante va bene e quando c'è la guerra contro la coalizione e gli inglesi la finanziano la coalizione in minima parte partecipano anche ai combattimenti lui propone alla convenzione che i prigionieri di guerra inglesi vengano passati per le armi diversamente dal trattamento previsto per qualunque prigioniero di guerra documenti inoppugnabili dimostrano che egli era un agente inglese faceva l'estremista provocando comportamenti del governo francese deliranti controproducenti quindi il problema esiste purtroppo è inattingibile è almeno giusto contemplarne l'esistenza poi l'empirica sua verifica è ardua allora grazie grazie davvero grazie a voi che avete seguito grazie a voi che avete seguito grazie a Giulio Oskian in collegamento da Yale Donatella di Cese Gustavo Zagrebreschi Luciano Canforo ovviamente appuntamento al prossimo anno e grazie per aver seguito con tanta passione un dibattito che mi è sembrato abbastanza appassionante buonasera a tutti grazie 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 a tutti